Il mio unico obiettivo è lavorare quotidianamente per il buon governo di Avellino. Laura Nargi prova a placare le tensioni esplose all'interno della maggioranza con le liste dell'ex sindaco festa all'attacco, sia della fascia tricolore che del patto civico per il caso commissioni, ma anche per presunti accordi sotto banco tra la prima cittadina e Rino Genovese. A Palazzo di Città si respira aria di crisi, Nargi non ci sta, sento piena e totale la responsabilità di amministrare al meglio la nostra città e non ho altra preoccupazione, scrive in una nota. Anche per questo ai consiglieri comunali rivolgo un sincero invito a rasserenare gli animi, evitando che una vicenda amministrativa già chiarita, quale quella relativa all'elezione dei presidenti delle commissioni, possa rallentare l'azione della nostra amministrazione. Nargi ci tiene a sottolineare l'inesistenza di accordi sotto banco che semplicemente non ci sono e non ci saranno mai, dice. C'è invece, aggiunge la necessità di dare il massimo per affrontare con coesione e senso di responsabilità le sfide amministrative di un comune, di un capoluogo in cui al netto dei miglioramenti significativi che pure ci sono stati negli ultimi anni persistono elementi di criticità, questioni delicate, vicende complesse, sfide ambiziose e problemi in parte derivanti da lontano che necessitano di risposte risolutive. Occorrono lucidità, determinazione, rigore e senso delle istituzioni, raccomanda il sindaco. Io so perfettamente chi mi ha sostenuto in campagna elettorale e lo sanno anche loro. Poi ovviamente c'è la legge anche che sostiene e impone che chiunque chiunque voti le linee programmatiche del sindaco fa parte della maggioranza. Ma in ogni caso tutto quello che è un po' stato amplificato in questi giorni è dovuto a problemi di comunicazione ma già risolti perché la mia maggioranza vuole il bene della città, io ne sono certa, li conosco bene e siamo tutti quanti lavorando per migliorare la qualità della vita delle persone, per migliorare e quindi per centrare gli obiettivi. Noi pensiamo solo alla città e quindi tutto quello che è successo è solo un piccolo incidente di percorso ma già tutto risolto. Noi vogliamo lavorare per la città.